Giacinti, doppio cambio quindi per Ica Grinks, apertura per Cantore, parte il cross, Bühler, poi la conclusione di Caruso, la palla rimane lì, ancora Caruso e l'Italia si porta in vantaggio con la conclusione della nuova... ...cresciuta nella Totti Soccer School, lei classe 99, interno sinistro, palla nell'angolo alto, non ci può arrivare Lidia Peng, ma la Svizzera oltre ad aver subito l'Italia in questo avvio di ripresa...